Sempre insieme, in città, al mare, in montagna, in campagna. Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, quando non hanno impegni di lavoro, stanno appiccicati ai loro due bambini, Nina, 4 anni, e Noè, di uno. I due attori, che si sono conosciuti nel 2015 sul set di vacanze ai Caraibi e sposati il 5 giugno 2021, vivono tra Milano, Roma e la campagna Umbra. Dopo le vacanze estive, passate anche sulle spiagge della Puglia e della Spagna. Nei giorni scorsi la famiglia Argentero Marino è stata fotografata in un parco milanese, in centro città, tra scivoli, altalene e giochi. Luca, come si vede dalle immagini della fotogalleri, nel ruolo di papà sta una meraviglia. Si mette in gioco, sempre col sorriso, aiuta Noè ad arrampicarsi, fa corsette con Nina. Ogni tanto l'attore fa qualche esercizio fisico sotto gli occhi della moglie. Il fitness in effetti ha un ruolo importante nelle giornate della coppia. Cristina, del resto, ha messo a punto un allenamento, il Metodo Befansifit, che è il titolo del libro pubblicato nel 2021 da Sperling e Amp, Capfer e anche una piattaforma wellness. E poi l'attrice è anche personal trainer riconosciuta dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Luca Argentero, interprete amatissimo. Lo scorso luglio ha vinto come miglior attore il Chuck D'Oro 2024, premio dedicato alle serie TV, per il ruolo del dottor Andrea Fanti nella serie Doc Nelle tue mani. La fiction della Rai tornerà con la quarta stagione nel gennaio 2026 perché le riprese sono previste nella primavera del prossimo anno. Doc Nelle tue mani 3, trasmesso da Rai 1 a inizio anno con grandi ascolti, ora si può vedere su Rai Play come le prime due stagioni. Gossip Time vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.